Il mio figlio è di rifermare questo sinocidio per dire al mondo vergognati, vergognati a tutti i governi che stanno sfruttiti proprio, che stanno guardando questa cosa. Sì, Miloni, quando è andata in Israele per abbracciare Netanyahu, mi vergogna quando vedi sua figlia, non mi senti quando vedi sua figlia e abbraccia sua figlia e quando pensa che ci sono più di 4.000 bambini che sono ammazzati, massacrati, una cosa vergognosa per l'umanità veramente. Io non riesco a dormire come una mamma, vuole dire a Giorgia che dici sono una mamma, una donna, non pensi a queste cose, qual è? Perché il sangue malattinesi è un'acqua e l'altra sangue è un sangue rosso, è quello che voglio dire. L'ONU è stato fatto perché doveva difendere Europa e invece dando la possibilità a 5 stati che mettono il vieto non va bene, non va bene. Bisogna rivedere questa cosa, questa forma di democrazia falsa, falsa. Io so che la palestina perché la palestina va a difesa, perché quella è terra loro.